Davanti all'1-1 tra Isernia e Ancona, chiedersi se sia un punto conquistato o due persi, quelli per i bianco-rossi, assomiglia ad un esercizio filosofico. Tanto pazza la squadra molisiana da mangiarsi almeno cinque volte nel secondo tempo il gol partita, tanto in confusione quella di Osio che si spegne come una candela dopo un gol annullato a Genchi. Il risultato di tutto questo è che il Teramo torna a meno 8 e prepara così il campo di battaglia in vista di domenica prossima, quando Alconero andrà in scena il big match, che solo in caso di vittoria dell'Ancona non equivarrebbe a una chiusura anticipata del campionato. Tornando a quanto si è visto all'Ancellotta, l'Ancona in emergenza per l'assenza di Mattias Antoni e Maiorano ha in ardone il terzo d'attacco. Proprio lui all'ottavo all'occasione del vantaggio. Marco Nato steso a terra lo disorienta e lo induce all'errore. L'Isernia si affida invece al dinamismo di Petrone, una vera spina nel fianco per Gandelli che non gli prende mai la targa, tantomeno al ventottesimo quando ribadisce in rete un'azione nata dal tacco di Panico per Raccovelli e dalla rispinta di David su conclusione del 9 bianco celeste. Sotto Natale la difesa dell'Ancona fa da statuine nel presepe. Costruire qualcosa in avanti e una faticaccia per la truppa di Oseo serve allora la solita invenzione balistica di Pesaresi a ristabilire la parità al quarantesimo. Non bastasse, poco più tardi Ambrosini sfiora la traversa da posizione defilata. Dopo il tè è tutta un'altra partita per emozioni e cose da raccontare. Comincia l'Ancona al quinto con un inserimento di Costa Ferreira che calcia alto sopra la traversa. Al dodicesimo gra lavoro di Ambrosini che porge a Genchi la palla del 2-1 ma il guardaline annulla per fuorigioco. Passano due minuti il bomber barese mette fuori il tapir ravvicinato su respinta a corte di Marco Nato. Fine dell'Ancona, inizio dell'Isernia che in avanti trova Praterie. Al sedicesimo Covelli in contropiede converge da sinistra ma la difesa d'Orica si salva alla disperata. Al venticinquesimo David apre il suo show personale salva risultato. Prima esibizione su destro di Rodia. Al trentunesimo doppio intervento su colpo di testa di Covelli. Alessandri al trentacinquesimo semina Pesaresi e Tafani ma al momento di concludere perde di vista la porta. Come al quarantesimo quando calcia in cielo un rigore concesso dal direttore di gara per fallo di Pesaresi su Rubino. L'Ancona conquista dunque un punto perché al primo di recupero David chiude la sua super domenica con un miracolo su Covelli.